E' un'altra scuola per sé, ma King è scuola per sé o no? Non lo sappiamo, sicuramente sappiamo. La scuola di alto è il contratto, anche poco, ma l'importanza è ottenere il pensiero del resto della partenza. La scuola di alto è il contratto, anche più, ma l'importanza è il contratto. La scuola di alto è il contratto, anche più, ma l'importanza è il contratto, anche più, ma l'importanza è il contratto.